La musica è davvero magica. È stata questa la prima cosa che ho pensato appena Noah ha terminato il concerto virtuale che ha tenuto in streaming nella serata di sabato 4 aprile a sostegno dell'ospedale Papa Giovanni tramite il CESVI. La musica è davvero magica. La musica è trasmessa sulla pagina Facebook di Bergamo Jazz Festival. Questa grande artista ha regalato 50 minuti di emozioni, cantando direttamente da casa sua, è arrivata dritta al cuore delle persone che l'hanno ascoltata. Ancora una volta ha dato prova delle sue grandi doti vocali e di una straordinaria capacità espressiva esibendosi in acustico accompagnata solo dalla chitarra di Gildor, seduto a due metri di distanza. Non era facile creare la giusta atmosfera senza la presenza del pubblico. In un primo momento mancando gli applausi il clima è sembrato surreale, ma è subito riuscita a trovare la giusta chiave per rendere tutto molto coinvolgente. Grazie a tutti.